Cari fratelli e sorelle tanto amati dal Signore, che vi accoglie nel suo cuore, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore nostro Gesù Cristo. E buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamo insieme, Siano rodati i Sacri Cori di Gesù, di Maria Giuseppe ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. I loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio. Vi ringraziamo il Padre che ci garantisce assistenza per i momenti difficili della vita. Ognuno di noi è tenuto d'occhio da Lui grazie agli angeli che ci può inviare. In modo particolare, chi è oppresso e disprezzato, chi è piccolo, non si deve vergognare, perché davanti a Dio c'è un suo rappresentante. Ci rendiamo grazie, Signore Gesù Cristo, perché ci hai affidati ai nostri angeli custodi, che possono continuamente intercedere per noi presso il Padre Celeste. Ed ora, ascolta Gesù che parla al tuo cuore e ti dice, Anima cara, per essere cristiani non basta nascere da Dio, ma bisogna rinascere in Lui incessantemente. Non basta vivere alla Sua presenza, bisogna essere ora, noi nel mondo, la Sua presenza. Ed ora, accogli con fede la benedizione del Signore. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la Sua Madre Santissima prima di iniziare la Sua passione. Quindi, per mezzo e intercessione del Beato, sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico per impiumere in te il triplice suggello delle tre divine persone, affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel Divin Volere. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi imprimando nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi imprimando nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo, comunichi imprimando nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti sono restituite le forze dell'anima e del corpo, si rissanato a ogni infermità spirituale e corporale, erichita e abilita di ogni bene per tu, sia la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù, benedico tutte le cose da Lui create, affinché tu le ricevi a tutte benedette da Lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, tutto, affinché tu resti come in abissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù, ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto e tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti il santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio, del Spirito e del Santo. Amen. Siano allodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre. Siano. S partner. Siano allodati iician. Siano allodati i 아이. Siano allodati i Mortonini. Grazie.